Gli aeroporti di Napoli e Salerno sempre più verso la gestione unica. Il governatore Vincenzo De Luca ha incontrato i vertici delle società dei due scali. L'obiettivo è velocizzare le procedure per l'integrazione societaria e la gestione unitaria tra l'aeroporto di Capodichino e quello di Ponte Cagnano. Nel luglio scorso c'è stata già la firma del protocollo d'intesa per la creazione della rete integrata degli aeroporti campani. De Luca ha avuto un faccia a faccia con il presidente di GESEC, Carlo Borgomeo, l'amministratore delegato Armando Brunini e il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Salerno, Antonio Ferraro. L'operazione però non è stata completata, tanto che la regione, in una nota avverte, seguiranno ulteriori incontri, sia a livello regionale che ministeriale, nell'ottica di accelerare i tempi. De Luca spinge per perfezionare la nascita di un unico soggetto, capace di rilanciare il Capodichino da un lato e far decollare finalmente l'aeroporto di Ponte Cagnano, ripreso dopo che ormai era una realtà defunta, ha detto il governatore. Oggi è necessario affidarlo a professionisti. C'è un interesse reciproco a unire le due strutture per dotare anche la campagna di un sistema aeroportuale che possa puntare almeno su due scali. Intanto l'Università Federico II, Eppol e la società aeroportuale lavorano al progetto Airport Assessac, coinvolti associazioni, studenti, ricercatori, tutti impegnati a cercare soluzioni innovative per collegare l'aeroporto di Capodichino alla città e migliorare i servizi aeroportuali. Il progetto è stato presentato ieri nella sede della IOS Developer Academy a San Giovanni a Teduccio.